Buon compleanno, Facebook. Domani, 4 febbraio, il social network più famoso del mondo compirà 10 anni. Per l'occasione il gruppo ha pensato di regalare agli utenti un video personalizzato, chiamato A Look Back, nel quale verranno raccolti tutti i loro momenti più significativi della permanenza su Facebook dal momento dell'iscrizione. Dalla sua nascita nel febbraio 2004 ne sono successe di cose. Il passaggio sui dispositivi mobile, la quotazione a Wall Street, l'acquisizione di Instagram sono solo alcune delle tappe principali del gruppo guidato dal giovane Mark Zuckerberg. Un percorso di successo che viene confermato dai conti recentemente diffusi dalla società che hanno ancora una volta battuto le più rose aspettative del mercato. Ma non solo, il suo pubblico continua ad aumentare. A fine 2013 Facebook vantava 1,23 miliardi di utenti mensili attivi, evidenzando una crescita del 16% sull'anno precedente.